Lombardi, cronaca, prego. Mister, Auteri ha appena detto arbitraggio due pesi due di su, dicendo che c'era qualche contrasto di troppo nell'area della Juve Stampe, ma c'era un rigore nettissimo all'ultimo minuto per un fallo di mano, dai cosa ha visto? Sono un po' sconcertato sinceramente perché io non ho notato questo, non voglio assolutamente parlare degli arbitri, io dico solo che Diop mi ha detto che il difensore ha preso la palla con le mani e nessuno di noi si è lamentato, quindi voglio chiudere qua il discorso. Altre domande? Ecco, Mister, sei passati da un quarto contro iniziale a un 3-4-3 a specchio, ma com'è che l'elemento ha lo spadroggio della padronanza e il cento l'ampere del terreno? No, ho fatto questa scelta perché volevo giocare 3 contro 3 anch'io lì davanti, in velocità potevamo far male, dietro il primo tempo abbiamo rischiato due volte purtroppo, uno è stato bravo, forse gli unici due errori della partita importanti, uno è stato bravo russo su quella situazione e l'altro siamo stati ingenui, un po' bravi loro, molto bravi loro a trovare il gol con tutta la difesa schierata. Per il resto noi abbiamo giocato alla pari, anzi sono un po' rammaricato perché qualche ripartenza, qualche situazione di uno contro uno l'abbiamo gestivato sia nelle scelte che magari nella misura e questo poteva fare la differenza. quindi ho scelto questa soluzione perché non potendo far fare tutta la partita avversante ho preferito far giocare 3 giocatori più stretti anche perché mi castro nelle perfette condizioni quindi non volevo dargli troppa fase difensiva, ci siamo messi uomo contro uomo e credo che la squadra comunque abbia fatto bene. Quanto è pesata la partita con il Matera? Anche perché oggi sembra di costante molto sulle gambe, soprattutto nei lumi cruciali, come Bobbote e Lisi ad esempio non hanno fatto la romana C'è da dire che abbiamo finito alle 10 e mezza di sabato, noi abbiamo cercato solo di recuperare le energie in questi giorni, però in generale oltre il discorso della stanchezza c'è anche da dire che avevamo più di qualche giocatore che non era in perfette condizioni fisiche al di là proprio della condizione e quindi questo ci ha pesato un po' anche sulle scelte iniziali per cercare comunque di ottimizzare le risorse un po' di tutti. Va bene? Grazie.